Luca Serafini, ancora ospite. Luca Serafini in una giornata abbastanza caotica perché adesso lo abbiamo, nel pomeriggio è stato all'università ed è bello parlare con gli studenti del tuo libro. Partiamo subito da quello e poi andiamo sul Milan. Beh, gli incontri con i giovani sono fantastici. Io sto portando il cuore di un uomo sul mio libro edito da Rizzoli ovunque. Venerdì sono anche al Salone Internazionale del Libro a Torino e quindi è una settimana intensa e parlare con i giovani è meraviglioso perché intanto è una storia che dà loro un po' di fiducia perché esistono ancora, secondo me, sulla terra uomini come fava loro e quindi è un bel messaggio per tutti. Grazie per avermelo ricordato. E poi è un modo anche un po' particolare questi incontri di togliere un po' la pressione ma lo dicevo nel video che ho girato e che ha dato già postato da qualche ora. Sono molto contento che ci sia questa pressione perché avrei temuto di più un sassuolo ipotesi che mi perde 6 a 1 dal Napoli piuttosto da un bel sassuolo che ha battuto il Bologna. Il Milan ha bisogno di avere squadre, ovviamente con qualche rischio in più, di avere squadre toniche. Ecco perché questa pressione, questo parlare tanto di sassuolo Milan mi fa piacere, mi fa tanto piacere. Sì, condivido perché credo che sia una mancanza di rispetto nei confronti del Milan e forse anche dell'Inter perché finalmente è uscita anche la rabbia dei tifosi della Sampdoria che non vogliono sentirsi vittime sacrificali. No, ma perché, scusa Luca, mi fai perdere una puntata, si gioca. Cioè Inter Sampdoria si gioca. No, perché non ne sento parlare mai. No, no, fra l'altro è uscita proprio su Sport Media, se l'ho vista un paio d'ore fa, c'è proprio una reazione dei tifosi della Sampdoria che hanno fatto la tua domanda e hanno detto ma scusate ma noi mi mandiamo a Milano a giocare. Però questo è un modo che io non vorrei cavalcare. Io mi vorrei concentrare sul fatto che la mancanza di rispetto nei confronti del Milan, per certi versi anche dell'Inter che è costretta a tifare sassuolo come farebbe tutto il resto del mondo, non dà valore al fatto che il Milan e l'Inter se faranno il loro domenica faranno lo stesso risultato e quindi finirà come deve finire. Io ho fiducia molto nella squadra, sono d'accordo con te che questa pressione oggi non è più una pressione negativa, non è più una sensazione come quella che abbiamo provato con Bologna e Udinese, in particolare a Salerno, di avere l'opportunità di e poi fallirla. Adesso tu c'erai in tasca con l'opportunità, devi solo fare il tuo, non devi né strafare né fare troppo poco, devi fare il tuo e ti dico che quello che il Milan ha fatto dal punto di vista mentale, dell'atteggiamento nelle partite con il Genoa, con la Lazio, con la Fiorentina, con il Verona e soprattutto quella con l'Atalanta mi fa stare molto tranquillo da questo punto di vista. Senti Luca, un altro punto importante che mi sembra di tocchiare è, riguardo sempre al campionato, è che non è più come qualcuno forse accennava qualche settimana fa, secondo me è sbagliato, ma rispettiamo io te le opinioni come sempre di tutti, il migliore dei peggiori. Perché battere quest'Inter che dopo il passo passo di Bologna in anella tutte vittorie con il Milan che deve vincere tutte le partite, signori è stato un duello, cioè esalta se dovesse vincere il Milan il campionato del Milan, perché ha battuto una grande Inter che non ha mai mollato un minuto, quindi un finale di campionato dove il Milan ha dovuto superarsi come l'Inter ha dovuto superarsi. Sono su pianeti diversi e su dimensioni diversi, ma quest'anno in Premier è successo qualcosa di analogo fra City e Liverpool, a un certo punto il City lo Scudetto ce l'aveva in tasca, aveva un sacco di punti di vantaggio, poi invece Liverpool si è rifatto sotto, il che vuol dire che nella prima parte il Liverpool aveva perso parecchi punti e nella seconda parte li ha persi il Manchester City perché ci sono dei cali fisiologici. Poi per carità di Dio loro hanno anche la Champions, la FA Cup, tutto quanto, quindi il Milan no e il paragone finisce lì. Là se la godono di più perché hanno fuori classe campioni, allenatori incredibili e hanno però anche una cultura diversa. Noi caro Carlo sai qual è il problema? Noi parliamo tanto di combattere il razzismo, di essere tolleranti, ma la verità è che noi siamo campanilisti, insomma lo vedi tra Brescia e Bergamo, tra Vicenza e Verona, tra Bari e Foggia, tra Palermo e Monza, anche fra paesi e paesi, qualche volta anche con i vicini di casa. Non siamo molto tolleranti, noi ci uniamo come popolo storicamente quando qualcuno ci invade. Allora l'italiano dà il meglio di se stesso, però la realtà è che siamo fatto di fazioni, lo sport non fa eccezione. I giornalisti bollati, marchiati a fuoco, tifosi in questo paese, sono essenzialmente Luca Serafini, Carlo Pelegatti e Mauro Fuma. Tutto il resto del panorama giornalistico italiano è equidistante. Io e te sappiamo bene, ti racconto questo brevissimo aneddoto, quando io dalla cronaca nera finalmente sono approdato lo sport nel 1983 con Maurizio Mosca, lui sapeva che io ero tifoso e mi disse, mi raccomando, non fare troppo tifoso perché è meglio fare gli equidistanti. Lui non era tifoso di nessuna squadra. Io andai le prime volte in tribuna stampa a San Siro, avevo 22-23 anni, e un lunedì dissi, scusa Maurizio, con tutto rispetto, ma sono tutti tifosi marci in tribuna stampa, urano, gridano, dicono delle cose che neanche in tribuna ne incurvo. Perché io devo nasconderlo? Mi sembra quando di ingannare chi mi legge, fingendo di essere... E allora lui mi sdoganò, mi lasciò andare, ma io, tu lo sai anche molto bene, ti devo dire che, li stavo tanto accestati da altri tifosi, amo prima il calcio, poi il Milan, e quindi le cose riesco a vederle con obiettività, non lo so, ma insomma con distacco. Io vedo le partite dell'Inter con i miei amici dell'Inter, non sono così avvelenato, sono polemico, ce lo sfottò per carità di Dio, però sono più disingannato. In questi giorni sono più concentrato a quello che farà il Milan, e so che se il Milan farà quello che sa fare, il finale non potrà essere diverso da quello che sa fare. Però ti ho visto un po' arrabbiato, tu che cerchi sempre di mantenere, un filmato che è andato in onda dovunque. Tu, a Sport Italia, dall'amico Criscichiello, gli facciamo i complimenti perché la caratese è nei play-off, e lui era molto contento, lui il presidente della caratese, e proprio con Ignazio Larussa, interista, che forse è andato un po' troppo... Io in questi giorni, questo è con il dottore, con gli amici, quelli che mi conoscono come te, io amo l'ironia, l'umorismo e la battuta, e questo ha caratterizzato per esempio l'amicizia più che trentennale con Diego Batantono, che fa la ragione della sua vita. E non mi trovo mai molto a mia giocatura. Io ho lavorato 26 anni con Maurizio Mosca e sei con Aldo Biscardi, che continuano a dirmi, devi andare in onda, tu bughi il video, tu dici cose intelligenti. Però io preferivo costruire i programmi, non sono uno da ridire. A me disturba ancora lo sconto di lunedì sera, perché va oltre lo sport, va oltre il sport. Ricordiamo cosa ha detto Ignazio Larussa. Sì, lui ha detto a un certo punto che il Milan vince lo scudetto grazie al Covid, perché l'Inter doveva giocare a Bologna con la partita quando aveva il portiere titolare. Invece tutti sanno che è stata l'Inter. Non mi interessa, sì, ma non mi interessa quella roba lì. Io credo che veramente un politico italiano, tu puoi parlare, sei a Sport Italia, parla degli arbitri, parla dei fari, dei fuori gioco, ci sei a Zufa, uno la pensa in un modo, uno l'altro, ma non puoi dire come prima ragione che l'Inter perde a causa del coronavirus. Io ho concluso la trasmissione dicendo, io, caro Carlo, mia sorella ha perso dopo 30 anni il lavoro perché lavora nel turismo a causa del coronavirus. Ho perso un cugino di 57 anni a settembre, abbiamo perso parenti e amici, non esiste che un politico dico che abbiamo perso una partita, abbiamo perso uno scudetto per il coronavirus, perché è un argomento che in Italia non si può trattare con una faccidone lì. Nessun comico interista che io conosco avrebbe mai detto una cosa di questo, direi perché sono intelligenti e educati. Quindi Giacomo Valenzi, Gianluca Impastato, Ale di Alefranzi, non sarebbero mai sognati di dire una cosa di questo genere. Figurati un politico, io sono sbottato, non è possibile dire una cosa di questo genere. Luca, che cosa ti è piaciuto, che cosa hai trovato di diverso se l'hai trovato nel Milan che ha battuto l'Atalanta rispetto alle ultime? No, io il Milan l'ho visto diverso in queste ultime partite, a partire da quella con il Genoa. Ho scoperto una squadra paziente, ho scoperto una squadra decisa, una squadra matura. Se tu metti insieme queste cinque partite, sostanzialmente hai rischiato veramente poco, nel senso che con il Genoa quasi nulla. Con la Lazio prende il gol subito, ma poi finisce 22 a 2 i tiri nello score. Con la Fiorentina praticamente nulla, c'è stato un colpo di testa di Cabral e quella grande parata di Messias. A Verona, dopo il gol del Verona, voglio esagerare, non c'è quasi più stata partita, onestamente. E con l'Atalanta è uguale, l'Atalanta è l'Atalanta, quindi in qualunque momento si può fare. C'era Zaccheroni ieri, ma l'Atalanta molto in partita, ha giocato una bella partita. Certo che sì, non è l'Atalanta dell'anno scorso, non è brillante come in Coppa, non è stata quella della Spezza, ha creato veramente pochino, domenica, ma è quello, siccome la tua domanda era sul Milan, il Milan è rimasto concentrato, paziente, attento, ha avuto un momento di tensione nella parte centrale del primo tempo e lì si è scatenato lo stadio. Quando lo stadio ha percepito che il Milan cominciava a avere qualche fremito di troppo, ha cominciato Coriur, è diventata proprio la bombonera. Ecco, mi sti fermo qua Luca, mi piace interromperti. Quante partite hai visto del Milan, anche storiche, leggendarie, con forza Milan, tu da tifoso, io però stento a ricordare, se non magari qualche partita dei tempi di farina, stento a ricordare un San Siro così. Sì, io l'unico... 5-0 con Real, 3-0 con il Manchester, ma io stento a ricordarlo. Il mio unico riferimento, perché tanti per esempio hanno paragonato questa stagione a quella di Zaccherone, per me c'entrano veramente poco. Quel Milan era una squadra che era imbottita di esperti bucanieri e altri giovani promettenti, ma aveva davanti un attacco atomico tra Gantz, 2A, Leonardo, Birov, non c'era proprio veramente la partita. Invece, per rispondere alla tua domanda, è da tempo che io lo paragono allo Scudetto della Stella, per un po' di ragioni. La prima è che, intanto il Milan non vinceva lo Scudetto da 10 anni, prima cosa. C'era stato di mezzo anche la famosa Verona, lo Scudetto perduto, eccetera. Però arrivava da due o tre anni di unpass. L'anno prima il Milan rischia di retrocedere. C'è l'ultima partita decidiva a San Sierro col Catanzaro, rischia addirittura di retrocedere, va via Marchioro, tornerò, c'è un brutto momento, anche se poi in finale vince la Coppa Italia con l'Inter proprio. Quell'anno lì, il Milan, e somiglia molto a questo. Tu pensa che c'era Collovati 22 anni, Baresi 18 anni, Novellino preso dal Perugia, che era un bel giocatore, c'era, ma non aveva vinto sostanzialmente nulla. Antonelli, Bettsicche. Però avevamo dei giocatori come Albertosi, come Bigone, come Rivera, che tiravano il gruppo e facevano un'esperienza. Avevamo Piodi, mai discusso come Giroud, come Ibra quest'anno, come Pelleglio, Remic, come nel ruolo di centravanti. Questa è un'analogia simpatica. E poi mi dicono, sì, ma cosa c'entra Piodi con Lito? Allora trovo due cose. Tutti e due hanno fatto di queste una squadra. Lidl fece di quella che fino all'anno prima era una mezza cozzaglia sistemata da Rocco, ha fatto una squadra di calcio, che non aveva grandissime stelle, a parte quelle che abbiamo citato, perché poi alcuni, quella carriera lì, non è che l'hanno proseguita molto a lungo, altri sì. E poi la pacatezza, la serenità di animo, la serenità di analisi, la capacità di dare, perché Lidl, mi ricordo come se fosse adesso, la domenica sera dopo Milan-Bologna, di quella Scudetto Hotel in cui San Siro era come quello di domenica, disse, il giornalista forse era Alfredo Figna, mi disse, lei però per tutto l'anno ha detto che il Milan era da Scudetto, non era la squadra più forte, e si alzò un giocatore, forse Bigon, però non me lo, e disse, non è vero, lui tutte le settimane ci diceva ragazzi, guardate che noi vinciamo lo Scudetto, se facciamo così, così vinciamo lo Scudetto, e credo che Piori abbia fatto la stessa cosa. Come vivere le prossime tre giorni? Con trepidazione, ho scritto su Facebook, domenica notte o lunedì mattina, questa settimana sono bannate dalla mia pace le parole timore e paura e ansia, io vorrei energia positiva, voglio solo energia, bisogna crederci, senza spacconeria, senza aria da festeggiamento anticipati, ma energia positiva, crederci alla parola d'oro, bisogna crederci, perché se il Milan fa il Milan, la partita finisce come deve dire. E poi il sabato del villaggio è meraviglioso. Sì, perché tu lo sai, le mie vigile sono le cose più belle, perché mi respiro l'atmosfera, è elettrizzante, è trepidante, ma ormai se uno va in campo con l'ansia, con la paura o col timore, parte già col piede sbagliato. Devi sapere, faccio sempre riferimento scolastico, già che oggi sono stato all'università, se tu hai preparato, hai studiato, ti sei applicato, hai preparato bene, l'esame è la cosa più semplice dell'anno scolastico. Ti ringrazio Luca e arrivederci la settimana prossima. Magari la facciamo. Arrivederci la prossima settimana. No, arrivederci la settimana prossima e poi vediamo se decidiamo di farla insieme, troviamo una location. Molto bello. Sì, sì. Bene, bene. Ok. Ciao. Ciao.